Il nuovo di John Scofield su ECM con Steve Swallow e Bill Stewart Avevo sentito poi c'è il corridoio che lo descrivono come un disco stupendo, come un grande John Scofield, bellissimo In parte è vero, ma a parte la sezione ritmica, che è una cosa fantastica, a parte i brani che sono stupendi John non suona più la chitarra Sì signore, suona malissimo, suona malissimo, un fraseggio indegno per un chitarrista come lui Che ha fatto delle cose straordinarie In questo disco mi dà l'impressione di essere un chitarrista che non tocca lo strumento da 5 anni Si sente che ha difficoltà, si sente che trova enormi difficoltà nel cadere sulla nota singola Ci sono rimasto molto, molto, molto male, perché da lui mi sarei aspettato un grandissimo ritorno È l'ennesima deduzione, però con un aggravante Non mi piace più come suona Pat Metini è di un altro sistema solare Non mi piace più come suona Grazie